Ciao a tutti. L'incidente con un drone abbattuto sul ar nero, MQ-9, cambierà la posizione degli Stati Uniti per quanto riguarda l'assistenza all'Ucraina, riferisce CNN. Il materiale afferma che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e un altro possibile candidato alla presidenza, il partito repubblicano, Ron DeSantis, sostengono che il sostegno dell'Ucraina potrebbe essere minacciato se entrassero alla Casa Bianca. Secondo l'autore dell'articolo, dopo l'incidente nelle acque del ar nero e l'avvertimento di Trump che solo lui può fermare la Terza Guerra Mondiale, così come la tesi principale di DeSantis secondo cui salvare l'Ucraina, non è l'interesse principale della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, probabilmente riceverà ancora più sostegno. Si noti che ciò che è accaduto, ha avvicinato lo scenario che tutti temevano, uno scontro diretto tra le truppe statunitensi e la Russia. In precedenza è stato riferito che un caccia russo, Su-27, si è scontrato con un drone M-Kev-9, sul ar nero. Secondo l'agenzia AFP, il drone è caduto in acque internazionali. Inoltre, il Pentagono ha confermato che il drone era in missione di ricognizione. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.